Ogni imprenditore, quando arriva a una certa dimensione, deve avere anche delle caratteristiche che lo rendono manager. Ogni manager, se vuole non solo continuare con un percorso, ma evolvere il percorso dell'azienda alla quale si sta dedicando, deve diventare un po' imprenditore. Quindi sì, è possibile, consigliabile punto di domanda, difficile? Certamente sì. Stefanel era un bellissimo marchio, una bella azienda, guidata da un imprenditore che io conosco e di cui ho grande stima, che in un momento di mercato molto complicato per chi stava in quel posizionamento di mercato, quindi un posizionamento intermedio dal punto di vista del prezzo, non era lusso, non era value, ha trovato le sue difficoltà come tantissime imprese del suo settore e a differenza di alcune altre e similmente a molte altre, non è riuscita a trovare il suo percorso di prosecuzione solida e profittevole. Quindi noi abbiamo acquisito da una situazione ormai di decozione, quindi abbiamo acquisito il marchio, alcuni dipendenti, perché crediamo nel valore di quel marchio, anche nel valore del lavoro fatto da chi ha portato quel marchio ad essere quello che è diventato e quindi stiamo cercando di rispettare anche il lavoro fatto e di portarlo avanti utilizzando tutte le leve che ci sono proprie, che sono invece di una grande azienda organizzata, che può anche mancare a volte di alcune componenti di creatività che invece dobbiamo riuscire a metterci dentro per garantire quel giusto equilibrio tra razionale e razionale che fa sempre parte della ricetta vincente.